Evocate il silenzio, sopprimete ogni pensiero, ogni immagine che si affaccia alla vostra mente con un colpo netto, come si recide un giunco. Siate immobili, siate impassibili, siate immobili, provate a non vedere con gli occhi e a non udire con le orecchie. Siate immobili, giungerete a vedere senza occhi, a toccare senza mani, a giungere senza camminare. Rare sono le parole che hanno potenza. Siete pieni di potenza voi stessi, eppure non lo sapete. L'ignoranza è la diga che tiene insieme il mondo. Oltre questa diga non c'è né passato, né presente, né male, né bene. Evocate il silenzio, evocate il vuoto. Nella piccola cavità della mente c'è tutto l'universo. Per l'uomo ignorante la natura rimane cosa morta. Vi sto parlando attraverso il vento. Quello che dice io sono brama, quello diventa brama. Ma quello che adora una divinità e dichiara, questa divinità è in alto e io sono in basso, questo proprio non sa niente. È ridicolo che io possa creare dei brama. Molti di voi non diventeranno mai dei brama. Meglio che fuggano. Poveri sciocchi e ignoranti che avete osato disturbare l'uomo di Gnag. Gnag è un demone maligno. Meglio che fuggano.